Ehi io, io vado, mi sto prendendo l'edito. Ma che ti dice se ti andava? Tu vuoi capire regolato? Ma che ti dice se ti andava? Ma non si vede? Una vera premura. Una vera premura. Però dovete guardare a me. Certo a me. Questo non se ne fa fotografi. Mi suggeriscono, vi potete mettere tutto in piedi?